Ok sto registrando in questo momento perché mi piace sta luce, mi fa figo cazzo Sta luce del sole dietro sembra tipo bello Sono buono come il sole Oh mio Dio quanto sono buono Ti troviamo in Inghilterra E qui coronavirus per questo momento In questo momento se ne stanno sbattendo la minchia tutti Giusto saver? Cosa ne pensi al coronavirus? No di come lo stanno... che era verde Di come lo stanno affrontando qua in Inghilterra In Inghilterra... wow sono nuovo Avete visto un uomo nudo Tanto è su YouTube quindi sti cazzi Ma è live ora? No non sto registrando No non sto facendo live Comunque dammi un'opinione Penso che Boris Johnson ha semplicemente pensato all'economia del suo paese Come è giusto che sia dato che quello è il suo lavoro Perché se l'economia di un paese collassa è peggio Di una catastrofe virale del genere Perché alla fine è un virus curabile Ed è pericoloso soltanto per chi ha malattie pregresse E chi ha anziani Quindi lui ha preferito mettere Lo sviluppo e l'avanzamento del paese Avanti Alla salute Dei propri cittadini più deboli Ecco quello che penso Oh mio Dio A me aspettavo una risposta profonda Mi aspettavo Boris Johnson è un coglione Questo mi aspettavo La risposta tipo da panino e da bar Invece l'uomo dei capezzoli Strunz L'uomo dei capezzoli d'oro La mia opinione Vediamo qual è la mia opinione Ho un'opinione su sto coso Io penso che l'Inghilterra dovrebbe sbrigarsi a chiudere i board E a fare il lockdown Come sta succedendo in Italia E in altri paesi Perché in questo momento se ne sta sbattendo il cazzo chiudere La gente va in club Vive tranquillamente Ovviamente ci sono molte persone in giro Però Tipo la metro alle 8 del mattino Qua dove abito io È piena Tipo una delle città Una delle road più busy di Londra D'Europa E invece in questi giorni è vuoto Quindi Poi la gente sta incominciando Sta facendo panic buying E spero che tutti quelli che hanno fatto panic buying Vada all'inferno Perché sono dei idioti Uy ma che Oh sto registrando così noti Comunque Sì tutti quelli che stanno facendo panic buying Dovrebbero andare all'inferno Perché quando non c'era niente C'era tutto per tutto Nella vita di ogni giorno C'è tutto per tutto Quindi qual è il motivo Visto che sapete che i shop non chiuderanno Farmacie e supermercati non chiuderanno Perché dovete comprare roba La carta igienica non vi salva la vita Se succede una catastrofe Dove non si può fare più un cazzo Non avete bisogno di carta igienica Avete bisogno di trovare metodi come fare più cibo Le scatole di tonno che avete accumulato In un mese finisca E se succede una cosa così Secondo voi la gente Per sopravvivere Non incomincia A sopravvivere Vi entra in casa e vi ruba le cose Sopravvivenza Quindi Non lo so Un po' una strunzata Tu che ne pensi sto panic buying? Per lo stesso motivo Che hai dato tu Cioè se prima del virus C'erano abbastanza scorte per tutti quanti Perché ora non dovrebbero più essere Semplicemente perché ne avete comprate di più E avete tolto la possibilità agli altri di comprarle Eh Questa è l'unica spiegazione logica e razionale Quindi continuate a fare quello che facevate prima Secondo me è anche questo uno dei motivi per cui Boris Johnson ha preso questo Eliminiamo la gente stupida Però il virus non uccide No eliminiamo la gente stupida Semplicemente per non mettere in panico il paese Perché se 10 milioni di persone solo a Londra vanno in panico è peggio Però dicendo Molta della vostra gente morirà per il virus È la verità La gente va in panico Sì è la verità Se una persona adulta dovrebbe semplicemente rendersi conto della situazione E dire È semplicemente la verità Ci sta un virus Non è che può essere Può essere contenuto Sì Però siamo con due punte da capo Quindi Secondo me era meglio che non lo diceva E basta Non faceva niente No Lasceva passare un po' di tempo Perché stanno provando a creare un antidote Stanno cercando di trovare un vaccino Alcuni dicono pure che l'hanno trovato Lo stanno testando A Napoli hanno trovato un farmaco Che tipo rallenta La progressione del virus E se un paziente è in gravi In una situazione grave Aiuta molto Ed è possibile toglierlo dal reparto E direi Così si può stare Così diciamo Si sfollano tutti i reparti di terapia intensiva Che erano pieno utilizzato Non per lo scopo per cui è stato creato Tipo è un farmaco per l'artrite Che viene usato Tipo per liberare i polmoni Napoletano Napoletano Cusci come a me Come a te Cusci Ci ha salvato la vita Ti salverò la vita un giorno Ringrazio tutta questa gente Che ha preferito studiare Invece di giocare ai videogiochi Come a te Ma c'è gente che ha passione per queste cose Io ho la passione per i videogiochi Comunque Questo è quello che sta succedendo a Londra Sta succedendo un cazzo C'è solo meno gente in giro Gli idioti fanno la fila Per comprare carta igienica E pasta Che non hanno mai mangiato La mangiano ogni tanto Però ora sta cazzo di pasta È diventata addio Cioè io mi voglio mangiare un piatto di pasta Non lo posso mangiare Perché non c'è pasta Capito? Questi idioti Comunque siamo riusciti a pane e pasta Non è che la mangio spesso la pasta Però un piatto di pasta lo voglio Due o tre volte a settimana E non me lo posso prendere Perché ci sono gli idioti Che si svegliano alle sette in mattina A fare la fila A rubare tutte cose Comunque Questa è la fine del video Commentate subito Il vostro parere Su questa catastrofe Stiamo solo parlando Questo sono io Quella era l'entrata di Capezzoli d'oro Saverio E ci vediamo Alla prossima Che la prossima sarà Sto tenendo un ingegnere A casa A fare Nella nostra casa O nel palazzo Un ingegnere Vabbè Queste cose sono argomenti Nelle prossime cinque ore Ok Io non ci sono E neanche io Ah non c'è nessuno Vabbè tanto non devi vedere la nostra casa Devi fixare il palazzo Devi fixare Tutte le case Devi vedere Sta scritto Nelle prossime cinque ore Ok E comunque ragazzi A voi ve l'ho fatto un cazzo Perché non avete Non hai capito De qua Comunque Ci vediamo alla prossima Iscrivetevi al canale Idioti Ci vediamo alla prossima